Benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo a Macerata Campania, precisamente in via Madonna delle Grazie, dove vi presentano un appartamento di 130 metri quadri interni, con doppia esposizione, totalmente ristrutturato, composto auto e box auto per riporre le tue auto. Il fabbricato in questione è questo qui, adesso seguimi! Benvenuti all'interno della soluzione, come puoi notare la soluzione ingresso in un ampio salone con doppio mano d'accesso ad un'ampia balconata, per questo l'ambiente gode di ottima luminosità, è molto spazioso come puoi notare e potrai qua organizzare cene con amici e parenti godendoti questo ampio spazio, guardando qui la televisione comodamente, sentendoci sul divano, potrai dall'altra parte addirittura rendere questo ambiente attualmente unico, ma anche un ambiente separato, con una piccola vetrata che divide le due zone. La cucina, come puoi notare, è un ampio ambiente e soprattutto sarà gradito dalle vostre mogli o da voi signore, in quanto hai un ampio spazio per questo ampio piano cottura e dall'altra parte anche questa zona qui della penisola è comodissima perché potrai fare le colazioni o avere un ottimo piano d'appoggio mentre organizzi pranzo e cena. Adesso è il momento di vedere quello che è l'affaccia della soluzione, seguimi. Adesso è il momento di vedere una prima zona notte perché questa soluzione è dotata di due zone notti. Una prima che è questa qui, che inizia con un primo bagno, qui alla mia destra con box doccia. A seguire, in effetti, qui alla mia sinistra abbiamo il secondo bagno, come puoi vedere, con vasca. Adesso alla mia destra vediamo una prima cameretta che ha la seconda esposizione di questo immobile, vediamola. Come potuto vedere, l'esposizione di questa camera è interna al parco sui posti auto. Adesso, infine, è il momento di vedere quella che è la camera da letto matrimoniale di questa splendida soluzione completamente ristrutturata che gode di un'esposizione solare magnifica e la camera da letto ha anche questa bellissima cabina armadio. Adesso, dopo aver visto la prima zona notte, è il momento di vedere la seconda, seguimi. La seconda zona notte ha ingresso in un piccolo disimpegno dove troviamo, in effetti, collocate due camere da letto e un bagno. Vediamo la prima camera. La prima camera è un ambiente molto ampio e luminoso grazie al terzo affaccio di questa magnifica soluzione con un'ampia balcanata anche qui. Dopo vediamo dalla seconda camera. Uscendo dalla camera da letto, qui a seguire abbiamo il bagno che dicevamo prima con box doccia. Vediamolo. Adesso vediamo quest'ampia camera da letto. Come puoi vedere è un ambiente veramente grande dove potrai o addirittura ricavare il quarto bagno ma potrai ricavare una grossa cabina armadio dove potrai riporre tutti i tuoi oggetti in modo organizzato e soprattutto visivo. Adesso vediamo la faccia della camera. Come detto prima siamo a Macerata Campania, è precisamente in via Madonna delle Grazie dove abbiamo appena visto questo immobile completamente ristrutturato di 130 metri quadri interni con tre ampie balconate, con un comodissimo posto auto all'interno del parco ed un box auto di 35 metri quadri dove potrai riporre i tuoi macerati. Adesso vediamo qui. Adesso vediamo qui. Adesso vediamo qui. Adesso vediamo qui. Ciao alla prossima.